Come ogni sosta, ecco uscire uno scandalo. Questa volta tocca a Florenzi e ad altri 47 giocatori. Guarda tutto il video per conoscere la notizia. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo. È gratis. L'inchiesta della Procura di Torino sulle scommesse illegali ha recentemente incluso il nome di Alessandro Florenzi, terzino destro del Milan, tra i calciatori coinvolti, al momento Florenzi non è stato ancora interrogato, ma si prevede che si presenti in procura a breve, approfittando della pausa per le partite delle nazionali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le indagini su Florenzi sono al momento di esclusiva competenza della giustizia ordinaria, mentre la Procura federale attende il completamento dell'indagine prima di intervenire. In aggiunta a Florenzi, sono emersi altri 47 nomi nel contesto di questa inchiesta, aumentando significativamente il numero di calciatori sotto esame. Fonti vicine alle indagini indicano giocatori di Inter, Milan, Roma, tra i più importanti. La Procura federale interverrà nel caso in cui venga accertato che Florenzi abbia scommesso sul calcio, indipendentemente dalla legalità della piattaforma utilizzata. In questo caso, Florenzi rischierebbe una squalifica, mentre l'uso di piattaforme illegali comporterebbe una multa. Florenzi è indagato per esercizio abusivo di scommesse, ma non ci sono ancora imputazioni a livello di giustizia sportiva, a differenza di altri casi come fagioli e tonali. Zaniolo, invece, ha negato di aver mai scommesso sul calcio e le indagini della Procura federale sembrano confermare la sua versione, pertanto non ci sono fascicoli aperti su di lui. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni, poiché la giustizia sportiva tende a muoversi più rapidamente della giustizia civile una volta raccolte tutte le prove necessarie. Come al solito, pagherà solo la Juve.